Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai A.S.M.A. Senti il vento, nuova puntata diciamo di Paglia, ho lasciato l'audio della musica, dei suoni però la musica mi sembra troppo alta, ho cambiato microfono, ho messo lo zoom ma mi sembra che abbia un audio più bello, comunque adesso io non ho idea, devo abbassare un po' le luci del ring light perché non vedo lo schermo altrimenti. Mi sta accicando, comunque andiamo a vedere le missioni, missioni abbiamo, trova il tuo vincolo, trova il tuo vincolo, ora che hai dimostrato di essere nelle virtù Mahiri, 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 no Mahiri forse, è il momento di scegliere un ship. Guadagnati la fiducia di ogni abitante adulto nel villaggio e chiedi loro di essere il tuo ship. Ciò richiederà il raggiungimento dell'amicizia di livello 4 con un abitante adulto idoneo del villaggio e il completamento della missione di livello 4. Io ti ho già fatto vedere, penso che farò Ashura. Più forte delle parole, Nayuma sembra abbattuta dopo la sua ultima discussione con Odari che è il padre, si è convinta che le azioni parlano più delle parole e vuole che il tuo aiuto lo dimostri. Aiutala a raccogliere le forniture di cui ha bisogno per iniziare a lavorare sulla sua tuta di sicurezza. Allora mi servono due fasci di filo di seta e cinque pezzi di pelle. Ah, la pelle, la stavo creando la pelle. I fasci di filo di seta le avevo, le ho dentro lo scrigno, adesso li prendiamo. Poi c'è Tisha, la mia futura moglie, febbre di rinnovamento. Tisha sta lavorando a un nuovo set di mobili, vuole il tuo aiuto per costruire alcuni dei pezzi. Allora eseguire per almeno tre, quanto segue? Crea un letto industriale. Eh, ma mi sa che devo prendermi le ricette. Crea un tavolo da pranzo industriale, crea un cassone industriale, set industriali e artigianali. Adesso andiamo a vedere se ce l'abbiamo. Ora ho creato delle nuove, questo è per fare il vetro e questo è per fare i vermi, per andare a pesca. E fate le cacchette che è il fertilizzante. Vabbè, lo mettiamo qua. Creiamo altri vermi perché... E mi servono per andare a pescare. Cinque, perfetto. Ah, scusa. Ah, gli altri. Così. Ok. E adesso due fasci di filo di seta. Lo prendiamo da qua. Ti faccio vedere anche come ho migliorato la casa. Allora seta, la seta, la seta, dimmelo se la vedi tu per prima. Dov'è la seta? Eccola qua. Ho creato la zona cucina con il forno, che devo ancora utilizzarlo, però proverò. Poi c'è la sala da pranzo. Bella. Sì, a parte le sedi brutte, però dopo la miglioreremo. Vedi, con questi qua, se pare, ho fatto la camera da letto e sono riuscita a acquistare questo qui, che è il cuscino, che mi piaceva. E poi qui c'è l'armadio, questo era già così. E bagno. Non c'è bagno, quindi boh, io volevo quello di Shrek, ma non c'è. E anzi, qua c'è l'acquario. Allora, che voglio fare? Prendiamo anche del rame, poi vedrai. Andiamo a fare la nostra missione. Siamo ancora in fase di prova audio, perché devo trovare il momento perfetto, con l'audio perfetto, perché sai come sono bignola, io ho passato, ma non so quanto passare ancora. Comunque, dobbiamo andare. Allora, dobbiamo andare qua. Solitamente non si consentiamo, però non voglio fare i suoi punti. sentire il vento, con le pomme eoliche, le musiche. Musiche della passata, ma si sente sempre tantissime. Potremmo togliere la musica, lasciare i suoi punti, sembra tutto alto quella prima. Ma forse così è un po' meglio. Forse così è un po' meglio. La musica è sparita, senti, senti, senti. più soft, perché la musica è da coprire i suoni della natura e anche a me piacerebbe comunque più basso. Eccola lì. Eccola lì. Abbiamo qui in alto, con la sua bandierina gialla. Non è proprio distantissimo, quindi ci arriveremo subito. e allora, guarda, 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 guarda. Dopo, vediamo su una cascata, perché ti faccio sentire lo scrociare dell'acqua. scrociare, 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 scrociare. Eccola quella cascata. Spassata. Manca cosa mi dispiace che qua non piove mai e quindi... manca quel suono. è bello vedere più gente da queste parti ho preso il materiale e ho parlato con tuo padre l'hai fatto che carina è steampunk lei cosa ha detto aspetta non voglio saperlo scommetto che saranno le solite cose che dice sempre non mi ascolta mai quindi perché dovrei ascoltarlo io che casino grazie per l'hai visto ecco a te lo apprezzo molto ecco speriamo che questo rimedi forse è meglio se ti allontani sto lavorando la mia ultima invenzione non sono del tutto sicuro che questa cosa sia stabile lei voleva anche terra eh le l'ha portato ma grazie vediamo cos'altro vuole un ciappa ha distrutto la sedia preferita di mio padre ora ha bisogno di pelle per sistemare mi è appena data la pelle accidenti adesso andiamo in città a vedere Tisha se mi dà le ricette per fare il letto industriale quindi dobbiamo tornare indietro qui non è tanto lontano siamo appena venuti poi mi raccomando fammi sapere feedback per l'audio era meglio silenzioso ti piaceva di più basso ti piaceva di più l'altro microfono lo vuoi tutto basso con questo microfono non va bene così va bene qualsiasi cosa basta che ci porti un contenuto alcune persone la pensano così i rari casi di va bene qualsiasi cosa secondo me è meglio questo microfono cioè io lo preferisco Alfie Fine però appunto a me non cambia niente cioè se tu mi dici mi piace di più questo io lo uso non ho problemi lungo allora dov'è Tisha che è andato a dormire ma noi con calma andiamo qui al Forniger Store senti i grilli perché adesso è mezzanotte anzi in una di notte nel gioco ovviamente senti tutti questi suoni questo che scappa questo che scappa il ciappo il ciappo mi senti squintire ok allora andiamo 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 ci sono già i voli allora ci potrebbe vedi ingrandire la casa io ho ammucchiato un bel po' di quattrini devo dire però aspetto ancora aspetto ancora allora fammi un attimo orientare quella è la biblioteca quel municipio biblioteca alle due di notte e ovviamente è chiusa non c'è nessuno giustamente che dire e cos'è tutto quel fumo ah beh sì giustamente ecco ma io mi sono fatta uno strumento per aggiustarmi da sola a casa tutti gli strumenti la taverna è aperta vediamo ecco giura io dovrei fare amicizia con lui tra l'altro se hai bisogno di aiuto non hai che da chiedere io non so che regalo voglia penso che voi umani portiate con voi la possibilità di imparare qualcosa per tutti e noi a prescindere che ve ne rendiate conto o meno vediamo cosa mi può vendere la ricetta pacchetta da rapdomante ti permette di individuare le risorse rare per 15 minuti no non mi interessa che bella questa ascia è blanche mamma mia quelli la carta da palati bosco di funghi la voglio però devo essere foraggiamento a livello 10 non so neanche quanto ce l'ho diciamo qua sulle relazioni eh no vedi parla con l'abitante per scoprire cosa vuole che non so comunque sono arrivata a livello 3 con una tiscia dove sei tiscia da 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 a livello 3 che dormono tutti a quest'ora giustamente però noi siamo più a quest'ora non basta tanto in mente tanto di fretta il tempo qua abbiamo scoperto un passaggio segreto ieri vediamo qua che cosa posso comprare di uovo niente di ittiche alla fine però guarda qui c'è ci sono i cioccolatini vedi scatola di cioccolatini che è una scatola di dolcetti di solito donata e regalo per dimostrare un interesse romantico quindi quando deciderò di fidanzarmi con qualcuno potrò regalargli la scatola di cioccolatini solo ho superato il terzo livello o il quarto livello non mi ricordo credo il terzo quindi io in teoria potrei già donarle a tischi ma voglio già fidanzarmi dopo un mese di gioco quindi piano prima voglio godermi il mio gioco dopo deciderò giusto così qui c'è un passaggio segreto ah beh potrei 50.000 non potrei prendermelo tenendo di luce se tu vai qui dentro poi vai qua scendi 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 poi dici beh e adesso e qui c'è il passaggio segreto tiro fuori il libro sciolto non so perché chissà tradotto com'è e qui guarda ci sono delle persone è buffo vederti qui o non è affatto buffo visto che anche tu vivi qui vediamo cosa vuole asciura si ritira ogni notte con una grossa tassa di tè di gattucca non digli che te l'ho detto ma è più goloso di dolci di quanto lo sia addirittura ogni quindi io e mia sorella viviamo nella casetta con il tetto verde dall'altra parte del fiume non che io sia più a casa allora e qua guarda dove sbocchi fuori all'improvviso siamo andati a traspettarmi eh vabbè quando l'hai detto sì quando l'hai detto sì torniamo dentro sono tipo le foglie sembrano quelle di strada le foglie le foglie le foglie le di strada le foglie erano proprio fatte così qua però non stanno vendendo niente attualmente comunque noi torniamo lì perché ci serviva Tish che però sta ancora tormento credo passaggi segreti passaggi segreti fantastici è normale sta ancora dormendo vediamo se io riesco a andare a casa sua visto che io ce l'ho livello 3 facciamo questo esperimento insieme io ho abbassato ma sento altissimo su d'oro sono curiosa di andare a vedere in fase di no questa qui è la casa andiamo a vedere allora posso entrare ah non c'è nessuno qua la camera è questa mi so la stessa di Tish eh ah no ha bisogno di una chiave da Tish per entrare non me l'ha data posso parlare con lei però la vita nella valle è tranquilla non è vero cosa vuoi dire calino stavo preparando della delle corone floreali ma ho finito i cigli goccia di sole se ne trovi qualcuno potresti raccoglierlo per me nessun problema nella mia credenza ho un barattolo di bastoncini per chiaccioli su ogni bastoncino c'è scritto il nome di qualcuno ogni tanto ne scelgo qualcuno a caso da inviare da invitare a cena bella bella idea domani mattina farò colazione con Kelly a Sian e Luise Luisa le cose si fanno interessanti è vero che mi scusa di gente che non c'entra nulla l'una o l'altra non è tipo il sindaco eccola qua lei è molto strana ehi come va vediamo cosa vuole lei se vedi una cimice immaculata fammelo sapere ne ho un sacco a casa sono molto ultimi come detenerenti per i malintenzionati non sto pescando pesci martefatti sai che una volta ho trovato un paio di vecchi stivali che appartenevano alla grande regina di ma sempre nomi impronunciabili Agvindu e già avevano anche la lettera M incisa sopra Galeri pensa che fosse una W ma io sono convinta che fosse una M rovesciata per cosa sta la M per cosa sta la W per cosa sta la M la regina Pinti ha tenuto segreto a tutto il suo cognome si dice che non abbia mai voluto che si sapesse se avesse preso il cognome del suo spasimante quegli stivali potrebbero essere la chiave per scoprire la sua identità eccolo qua il giglio dovrebbe essere questo il giglio vediamo si possiamo già portaglielo a Tish senza colpo ferire proprio che bella cazzetta guarda c'è appunto il cielo anche qua che carino non trovi che il profumo della valle al mattino sia splendido c'è ragione ok sono davvero splendidi li hai raccolti per me eh sì allora Shura vuole il katuk che ne ho a casa devo ricordarmeli poi lui non si sa ma io gli ho regalato già delle cose perché è così non si sia pagato a lui io ho regalato una cimice e anche perché lui piace gli insetti un'ape però non so perché qua non le segna poi anche lui ha regalato delle cose strano vabbè ma si è un po' pagato molto bene ehi è sempre un piacere vederti sto cercando di catturare una cimice ancora ma continuano a scusciare via adesso la catturiamo noi spero non faccia troppo rumore perché mangiamo anche un po' un po' di carne allora andiamo in mezzo all'erba qui c'è una barfona non ci interessa ci interessa ci interessa allora andiamo a mettere la barfona giapa 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 tutti questi giapa giapa ho completato la missione abbiamo già completato non ne ho tante adesso tutti questi giapa aiuto 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 cos'è la cimice la cimice la cimice ma aspetta chi voleva la cimice ma cimice qualcun altro mi ricordo più scriviamolo nei commenti se sei stato attento l'attura come vedi io non proveremo un'altra cimiciotola qui di un po' eccola cattolata c'è l'altra e quindi torniamo dove è andato quel piccoletto è rimasto lì ok andiamo da lui ok ce ne ho un'altra qui ok uno in più uno come mai una cimice in più ok questo quello le chiede spesso invece la scorta e una volta che la vuole le regalo una cimice una cimice una cimice dovrebbe essere di qua così mentre sono le sette dovrebbero appresire le regalo è stato il giorno che cercò di catturare una di quelle piccole canaglie come facevi a saperlo tipo me l'avevi appena detto per esempio dopo aver dato a noi quella cimice la sua maglietta era così puzzolente che ha dovuto passare l'intero picnic a petto luto è fortunato che riesce però si è passata di lì la chiamo escema non so siccome si pronuncia se non avesse visto mezzo noto in quel moto lo avrebbe sicuramente desilato nelle palute c'è tutta una storia dietro che praticamente lui si trova di nascosto con una tizia che è tipo la ricona la ricona del villaggio che è la figlia del sindaco e di una ricconissima la più ricca del villaggio e lei è tutta ribelle perché si ribella alla madre che è una rompiscatole una ricona antipatica e praticamente si trova di nascosto con questa specie di ragazzo cowboy e poi e fanno ci fanno le storie allora vediamo se è aperto il negozio se si è svegliato tizia no ancora non è sveglia però magari riusciamo no non solo queste cose a me servono le ricette però guardiamo lo stesso i pavimenti se c'è qualcosa che ci piace è tradotto un po' no possiamo tornare a casa a piedi oppure possiamo cliccare qua e fare torna a casa e lo fa subito però quello ce l'hai ogni 15 minuti reali non del gioco perché i 15 minuti del gioco sono velocissimi possiamo fare anche questo orologio sì bello ho costruito il vetro per farlo cosa sceglieremo qui sta la cassettiera no credenza vabbè guai allora la cassettiera ce l'abbiamo allora allora andiamo a posizionare la nostra sveglia che la metteremo proprio lì se si può 5 stupenda guarda che bella l'abbiamo fatta noi l'abbiamo fatta noi con il sole e la luna è super bella con la campanella ci sta vicino al letto così è fantastico sul comodino forse la girerei un po' verso il letto così sì è così molto più bella ok sono precisino perché vediamo nel forno con il forno che cosa si può realizzare non ho ricette in realtà una cavolata perché ce l'ho ricetta quella con la carne vediamo eccole qua zuppa palliana di cipolle e la bistecca vedi c'è bisogno del forno per la baguette ho tutti gli ingredienti però non mi va di usare il burro però 250 guarda che bella e hai ramen posso farlo l'ho già fatto mi manca l'aglio non è un problema qui mi mancano alcuni prodotti la zuppa palliana di cipolle di patate mi manca la zuppa di carote non ho proprio la ricetta infatti ti mostro come fare una ricetta semplice facciamo questa che serve solo pomodoro qualsiasi spezia e qualsiasi fungo allora si fa si fa crea poi si fa qui e si fa così faccio questo giochino tipo la cookie mama ok poi si va qua si aggiunge si aggiungono gli ingredienti si mescola tutto con il mouse ok ok è fatta con la buon profumo possiamo prenderla e possiamo anche mangiarla buonissima ok spero che questo video ti sia piaciuto perché ci giriamo ok che brutto che brutto incontrattura ok spero che questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte buon relax ovviamente aspetto tutti i tuoi feedback creatura per sapere se hai questo microfono no l'audio si no l'audio tutto quello che vuoi faremo un'altra missione gireremo un po' sai che i primi video sono un po' così perché appunto per l'audio ma dopo ci si ci andiamo giù seri mi darò delle missioni appositamente per te creatura ma anche solo girare così è rilassante cosa ne pensi allora ti faccio come al solito salutare dal mio personaggino io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura